Ben ritrovati con il Tg Veneziano, apriamo il nostro spazio informativo con la proposta dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto che la Giunta del Comune di Venezia ha approvato ieri mattina per gli ulteriori due progetti di rendere accessibili il Ponte Raspi e il Ponte Contarini, il primo nel Sestiere San Polo e l'altro a Canareggio. In particolare per il Ponte Raspi, percorso utile per il flusso pedonale da e verso Rialto, sarà realizzata una variante di scalino agevolato che formerà una rampa intervallata da gradini in pietra distria. Saranno collocati anche con rimani in acciaio brunito. Per il Ponte Contarini invece sono previsti scalini agevolati rimovibili che garantiranno l'accessibilità nella parte centrale della gradinata. Per la realizzazione dei lavori di intervento sono stati stanziati dal Comune di Venezia 100.000 euro. Figure fantastiche tra gnomi, draghi, delfini dipinti sulle pareti delle stanze del reparto della pediatria dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, merito dell'artista Serena Carnera, gratitudine espressa dal direttore generale Giuseppe Del Bend a parte dell'US12. Sfruttamento della prostituzione di ragazze cinesi in Italia senza permessi è questo quello che è emerso dalle indagini cominciate ancora nel luglio del 2015. I carabinieri di Mestre, coordinati dalla procura di Venezia, sono riusciti ad identificare e a denunciare in stato di libertà circa 40 persone tra ragazze e proprietari di appartamenti. Circa una ventina le case di prostituzione dislocate in tutto il territorio nazionale. Dalle indagini ai vertici dell'organizzazione, quattro donne cinesi. Le ragazze erano costrette a vivere in condizioni disumane, private di ogni libertà personale. Sequestrati beni tra auto e appartamenti per più di un milione di euro. E invece a Cavarzere i carabinieri di Chioggia, insieme a quelli di Cavarzere, il nucleo ispettorato del lavoro, hanno concluso il 2 dicembre un'operazione che ha portato alla luce la situazione di otto vengalesi che vivevano in un container e lavoravano in nero sottopagati nelle coltivazioni nei fondi agricoli. I reclutatori, un uomo di 25 anni e una donna di 30 anni, entrambi del Bangladesh, sono stati denunciati per i reati di sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e occupazione di lavoratori senza permesso di soggiorno, oltre a sanzioni amministrative per quasi 50 mila euro. Adesso invece parliamo di una vasta operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane contro i traffici illeciti di sigarette all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sono state sequestrate nell'ultimo mese circa 600 stecche di sigarette di contrabbando corrispondenti a 120 kg di tabacchi lavorati esteri. Nove passeggeri intercettati provenienti da paesi dell'est Europa per il contrabbando illegale e la merce era nascosta nei bagagli. Nei loro confronti è stata avanzata l'evasione di diritti doganali per 25 mila euro e sanzioni per oltre 590 mila euro. Una vera e propria aggressione, rimaniamo sempre a Venezia, quella ai danni di un turista inglese in pieno centro storico a Venezia a due passi dal ponte di Rialto. Il volto del turista con i segni dell'aggressione avvenuta intorno a mezzanotte e mezza tra sabato e domenica, il turista voleva fotografare il Canal Grande ed è stata proprio la macchina fotografica ad attirare due delinquenti, sembrerebbe di origini dell'est Europa. L'hanno strattonato e colpito con pugni fino a derubarlo non solo della Canon ma anche di smartphone e carte di credito. Il turista 45enne ha peraltro rifiutato le cure mediche, sono ancora in corso invece le indagini per l'identificazione degli aggressori. Ci spostiamo adesso a Bibione in un appartamento in via delle Comete, un 53enne pregiudicato per futili motivi e peraltro ancora al vaglio delle indagini ha dapprima minacciato di morte il cognato 51enne e poi lo ha ferito con una lama. Nell'intento di arginare la furia del fratello è rimasta ferita anche la donna, ferite a gomito e mani giudicate guaribili in 8 giorni per la donna, 15 giorni invece per l'aggredito. Il coltello è stato posto sotto sequestro, il 53enne è arrestato per lesioni personali aggravate e minacce. Appuntamento adesso invece con la consueta pagina sportiva. Questa sera appuntamento di Basket Champions League per l'Umana Reier contro l'Emè, inizierà tra poco al palazzetto di Mestre Altagliarcio. E invece per il calcio, giornata di vittoria è stata quella di domenica, il Venezia ha vinto a Fano per 1-0, siamo in Lega Pro, e invece per la Serie D il Mestre ha vinto a Trieste per 4-3. Questa era l'ultima notizia, io vi do appuntamento per giovedì e adesso invece vi lascio in compagnia dei miei colleghi. Grazie, buona serata. Grazie.